Ciao e benvenuti sul canale GSRarabi, una nuova lezione dal libro Facile Facile A2, Unità 1, lezione 7. Completa con il passato prossimo dai verbi riflessivi e reciprocì. يعني أكمل بالماضي التام, il passato prossimo, مع الأفعال أو للأفعال المنعكسة والأفعال المتبادلة الإنعكاس. وقد تم شرحهم من قبل. هنرجع مع بعض, l'etra A بتقول, questa mattina svegliarsi io molto tardi. questa mattina io mi sono svegliato molto tardi. questa mattina io mi sono svegliato molto tardi. il verbo svegliarsi, 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 ho faعل منعكس verbo riflessivo. معنى أن الفاعل هو المفعول. يعني الفاعل يقوم بعمل فعل لنفسه. هنا, طبعا, إحنا كنا صرفناها في المضارع أو il present indicativo. قلنا, io mi sveglio tutti svegli, lui lei si sveglia, noi ci svegliamo, voi vi svegliate loro si svegliano. وقلنا أن الضمائر الأولى هي ضمائر الإنعكاس أو i pronomi riflessivi. تمام. هنا, مع il passato prossimo, il verbo, o i verbi riflessivi, la faعل المعكسة, بتأخذ المساعد essere, أو lausiliare essere, لتركيب il passato prossimo. فهنقول io mi sono svegliato, التصريف الثالث للفعل أو il participio passato, io mi sono svegliato. هنا, كل اللي بنعمله بنزود ضمائر الإنعكاس. svegliare بتكون svegliato في il participio passato, والsi بتتحول لمي مع io, ضمائر الإنعكاس. وهنا, طبعا, بناخذ il verbo essere, كأو svegliare, أو كمساعد. tu ti sei, ti sei svegliato, svegliato. طبعا, لو ولد, svegliata, لو بنت, لأن إحنا بنغير النهايات مع essere. هنا svegliato, أو svegliata. io mi sono svegliato, io mi sono svegliata. tu ti sei, svegliato. in tasheeto, e tu ti sei svegliata. in tasheeti, من النوم. أو istaiqalti, من النوم. tamem. lui, hai kun, si è, si è svegliato. si è svegliato. lui, si è svegliato. svegliato. lei, si è svegliata. noi, ci siamo, svegliati. ci siamo, svegliati. يعني, نحن استيقظنا من النوم. svegliati, أو svegliate. لو إحنا بنات. voi, vi siete, svegliati. svegliati, svegliati. جامع, مذكر. و svegliate. جامع, مؤنف. loro, si, sano, svegliati. svegliati. جامع, مذكر. و svegliati. جامع, مؤنف. نمائر الانعكاز في البداية. mi, ti, si, 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 si. no, النعكاز. vi, si. و, il partit. طوابعا, بنستغدم. lausiliare essere. lausiliare essere. io, mi sono svegliato. tutti sei svegliata. أو svegliato. lui, si è svegliato. أو, lei, si è svegliata. noi, ci siamo svegliati. جامع, مذكر. و, ci siamo svegliate. جامع, مؤنث. voi, vi siete svegliati. جامع, مذكر. و, vi siete svegliata. جامع, مؤنث. il verbo svegliarsi. معنى يستيقظ. يستيقظ من النوم. طبعا, نخلي برنا. لو الفعل غير منعكس. هناخد أذرة. يعني, لو أنا. باوقز حد من النوم. أو بصحي حد من النوم. فهقول مثلا. io o svegliato. o svegliato marwa o svegliato marwa anna sahaed marwa anna anna il faail o lakini michi il mafiool iu o svegliato marwa fa anna il mauduwa asbach mختلف anna il mauduwa asbach anna fi faail mختلف an il mafiool questa mattina io mi sono svegliato molto tardi quando l'insignante e entrata li alluni si sono alzati hana il verbo alzarsi 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 maana in huwa yuqaf aw in huwa yanhad yanhad, mokini kun yanhad min il nom aslan yuqaf aw yanhad fa haqul io mi sono alzato walad wè mi sono alzata bend tu ti sei alzato mo thakkar wè tu ti sei alzata mo annas ti sei alzato aw alzata lui si è alzato wè lei si è alzata noi ci siamo ci siamo alzati au alzate voi vi siete alzati au alzate wè loro si sono alzati au alzate il verbo alzarsi yanhad yuqaf quando l'insinjante e entrata gli alunni si sono alzati claudia si è curata molto bene e adesso stamalio claudia e'tanit benafsaha gajedan giddan wal'an hie a'hsan si è curata il verbo curarsi curarsi iatani benafsaha curarsi 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 iatani benafsaha io mi sono curata mi sono curata au curato tavalla wè lei mi sono curato au curata tu ti sei curato au curata lui si è curato si è curato wè lei si è curata wè noi ci siamo curati au curate tavalla lo chiamiamo annas wè voi vi siete curati au curate iatani benafs wè loro si sono curati au curate il verbo curarsi iatani benafs claudia si è curata molto bene e adesso sta meglio vestirsi vestirsi ma'naja ielbis ma lapso iartadi vestirsi tu ti sei già vestito ti sei già vestito ti sei già vestito يعni anta iartadit ma lapso il verbo vestirsi 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 معna iartadi ma lapso lau anna had callima annafsi io mi sono vestito walad mi sono vestita bent tu ti sei vestito walad ti sei vestita bent lui si è vestito walai si è vestita noi nachno ci siamo vestiti o vestite voi vi siete vestiti o vestite waloro si sono vestiti o vestite il verbo vestirsi iartadi ma lapso tu ti sei già vestito o vestita lau anna bakallim bent divertirsi wa noi divertirsi يعni يستمتع divertirsi noi ci siamo divertiti o divertita lau ixna bani alla tua festa fi hafletak yibaka il verbo divertirsi معna يستمتع divertirsi okey fi passato prossimo طبعا هياخد اسرة كباقي l'afa'al al-munna ackisa التي ta'khuð il-fa'al essere o ziliare o musa'id haul io mi sono divertito au divertita tu ti sei divertito au divertita lui si è divertito lei si è divertita noi ci siamo divertiti voi vi siete divertiti au divertite taban e loro si sono divertiti au divertite il verbo divertirsi ma'ne in huwa يستمta noi ci siamo divertiti alla tua festa لو ixna bennet a che ora incontrarsi voi martedì a che ora vi siete incontrati o incontrati martedì saa che am taccabaltum iom l-tholese a che ora vi siete incontrati martedì o a che ora vi siete incontrati martedì il verbo incontrarsi 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 في هذه الحالة هو فعل منعكس بال tabadol يعني verbo reciproco reciproco يعني فعل منعكس بالتبادل يعني هي منعكس بالتبادل يعني لازم يتم ما بين اتنين او اكثر يعني طبعا مش الحدش هيقى بن نفسه يعني مش هقول اي و مين كونترو توتين كونتري لا محدش هيقى بن نفسه هيا هتيجي في الجمع هتيجي في الجمع بمعنى ان انا تؤدري نفس الفعل بالظفت فهنا بيسمى انعكاس بالتبادل يعني انا هاقول انا قبلتك انا قبلتك خلاص ايو تي او إن كونترا تي او إن كونترا هنا استخدمت البرب ابارة البرب ابارة تي او إن كونترا انا قبلتك ايو تي او إن كونترا وانت قبلتني ومIII io ho incontrato incontrato e ti ho incontrato e noi due due ci ho incontrato perché la situazione è una relazione e noi due due ci siamo incontrato 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 e noi abbiamo incontrato in questa situazione è una relazione una relazione con l'accazione le france le france è un'accazione per essere alla relazione l'accazione e questo saprei o per la ampio visita incontrati Mwumkina uul tu hai incontrato Marco, Marco hai incontrato. Yani ente ablta Marco, Marco ablac. Ente l-itnien visiete incontrati. Mwumkina uul humma tablo si sono incontrati. Jani l-fajal l-in'aikassie, l-tabadulie, b-nistakdimha fi domoer il-gamma noi uvoi ue loro. Ci siamu incontrati, visiete incontrati, si sono incontrati. Hena ma'ana il-gumla b-tuul a-ke ora visiete incontrati martidi. Tama mwumkina istakdimha l-muannes. A-ke ora visiete incontrati martidi. Imiai genitori sposarsi nel mille novecento setanta quattro. Jani abawai tazawagu fi hada al-aim. Jibaka hena Imiai genitori si sono sposati nel mille novecento setanta quattro. Jani hena l-ab tazawag min l-um, wal-um tazawagat min l-ab. Fahumma l-idnien tazawagu ba'd. Jani abawai si sono sposati nel mille novecento setanta quattro. Si sono sposati Non lavarsi tu Non ti sei lavato bene Sei ancora tutto sporco Non ti sei lavato bene Ti sei lavato bene Il verbo lavarsi Il verbo lavarsi Lavarsi Io mi sono lavato o lavata Tu ti sei lavato o lavata Lui si è lavato Lei si è lavata Noi ci siamo lavati o lavate Voi vi siete lavati o lavate Loro si sono lavati o lavate Lavarsi Non ti sei lavato bene Sei ancora tutto sporco Hieri sera addormentarsi io Hieri sera mi sono addormentato sul divano Io mi sono addormentato Mi sono addormentato Il verbo addormentarsi Mi sono addormentato o addormentata Tu ti sei addormentato o addormentata Lui si è addormentata Lui si è addormentato Lui si è addormentato Lui si è addormentata Noi ci siamo addormentati o addormentate Voi vi siete addormentati o addormentate Loro si sono addormentati o addormentate Il verbo addormentarsi Ieri sera mi sono addormentato o addormentata sul divano Luca e Maria salutarsi Luca e Maria si sono salutati Salmo alabad Si sono salutati questa mattina Luca e Maria si sono salutati questa mattina Si sono salutati Il verbo salutarsi Salutarsi وفي هذه الحالة l'inعكas بالtubadul called reciproco Reciproco يعni il obbedale Luca è un cambio di maria Maria si è un cambio di maria Luca 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 è un cambio di maria Maria, stiamo ambito verbo avere la prima, il fiore è giusto, ok? Maria, Maria è salutato Luca, loco, ok? Ma, ce이 due sessi, c'è la relazione un'acquista e un'attesa, un'abbare. La verità è Luca, Maria è Woman, è Maria, Si sono Si sono Salutati Si sono Salutati Saliamo Il verbo essere Che ausiliare Che Questa mattina Mi sono svegliato Molto tardi Quando l'insegnante E' entrata Gli allugni Si sono Alzati Claudia Si è Curata Molto bene E adesso Sta meglio Tu Ti sei Già Vestito Noi Ci siamo Divertiti Alla tua Festa A che ora Vi siete Incontrati Martedì I miei genitori Si sono Sposati Nel 1974 Non ti sei Lavato Bene Sei ancora Tutto Sporco Ieri sera Mi sono Addormentato Sul divano Luca E Maria Si sono Salutati Questa mattina Ciao